Auguri al maestro Canello Grazie a tutti Good morning Anche se direi più buonasera Visto che qui sono le 5.20 Mister, master, maestro Oh semplicemente Oh semplicemente David Lynch It's December Last day The last day of the year The last day of December 31 2021 And one hand And one hand If Heep Heep You can believe it It's a friday once again e come ogni frattempo ho tagliato il mio cuore con questo fantastico elettrico blu, blu e gru una volta, 8 euro, molto caro, molto grande un pezzo che viene suonato in una scena relativa al capodanno ma l'approfondisco meglio in descrizione se qualcuno si vuole fare due risate lo metto stasera nella sua cina sottofondo poi aggiungo anche altre cose in descrizione altrimenti non ce la faccio col tempo non posso mostrare ovviamente la finestra perché è sera ma le mostro un frammento di qualche ora fa quindi come vedo da una scena oggi abbiamo avuto those beautiful blue skies and golden sunshine ancora una volta in ultimi giorni credo 3-4 volte le abbiamo avuti poi sono stati sempre dei giorni di pioggia in precedenza 4-5 giorni di pioggia ma va bene così quindi in questi casi che dire bene così said this for for the last day of 2021 soul from the mythical wind of with the carer de corte not visible questa inquadratura e poi perché sera and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg ipg 625 have a great day in all the people follow the channel and the reports per l'ultima volta grazie sempre anna e urek sempre molto gentile e carina comunque per l'ultima volta di quest'anno ma comunque è un'illusione passaggio al numero c'è solo il passaggio al numero fisico la vita è sempre la stessa non illudetevi sì è così in fondo però comunque spero si possa raggiungere una certa gioia parlare di gioia si può parlare non di felicità felicità in un stato duraturo di piccole gioie sì ma non di felicità e quindi poi la musica ovviamente è sempre la mia come ogni venerdì sottofondo di montaggio e fronto in pix di angelo badalaventi a fuoco firewalk with me la versione mia più recente datata febbraio e quest'anno ma ormai passato quest'anno febbraio 2021 e lo scorso anno possiamo dire so e gay never great day in all these people and everyone too